Ciao a tutti Dreamers, miei amatissimi sognatori, io sono Francesca e bentornati sul canale! Benvenuti in un nuovissimo video di Adopt Me! Pshu 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 kajiglio io! Pokémon! Come sono triste che non funziona in più la radio qui si Adopt Me e quindi non si sentono più le canzoni! Cioè sono devastata da questa cosa! Ma oggi come ogni martedì andremo a parlare di news! perché vi anticipo già se non lo sapete questa settimana ci sarà un nuovo aggiornamento di Adopt Me ma se non sapete di cosa sto parlando non vi preoccupate c'è la vostra la vostra fantastica French Dreams pronta, prontissima a spiegarvi tutte le novità che stanno per arrivare qui su Adopt Me o che arriveranno a breve se quindi siete curiosi di vedere questo video se volete più video news, più live più video in assoluto lasciate un bel mi piace adesso iscrivendovi anche al canale e tappando anche la campanella così non perderete nessun video e come al solito troverete tutti i link utili giù in descrizione come Instagram, TikTok il sito delle nostre magliette è il merch Never Stop Dreaming e anche Instangaming che ha come al solito le Robux in sconto devo fare la tusse e ho anche un po' di affanno oggi ci connettiamo per il 546esimo giorno prendo i miei 25 dollari siamo giusto giusto a 100 stellatelle, ce ne mancano 40 per la nostra Human Bubble ovvero la bolla umana andiamo su Close missioncina nuova con me non c'è nessun petto interessante interessante allora togliamo il nome dorato iniziamo a fare questo gioco con qualcuno dei tuoi amici per almeno 16 minuti vabbè, si può fare si può fare per prima cosa volevo questo è il nuovo definitivo con volpe che se lo vado a mettere ok sono io ok vai adesso c'ho la la tuta eh vabbè ho i blocchi ho le braccia blocks ma le andiamo subito a risolvere dovrei dovrei sistemare allora questo era quello cartoni è ok poi questo dovrebbe essere il corpo problema risolto quindi ho messo la tuta pig in realtà avevo visto l'altro giorno quelle come si chiamava quel cerchietto quel cerchietto bellissimo ok ci sto alla grande ragazzi e questo lo salviamo pig tuta dreamers pig ok quindi siamo siamo cambiati e adoro camminare così no ma forse non era cartoon aspettate aspettate non era cartoon non era cartoon era toy mi sa che era toy è toy eh si è toy ok quindi sono toy va benissimo così mi piace la questione del toy da oggi questo sarà il outfit abbiamo tolto la tuta volpe per passare a quella pig vi ricordo queste cose le trovate come sempre nel gruppo dei dreamers link in descrizione allora vediamo com'è la situation ok abbiamo qualche pet carino niente di esagerato però nel frattempo come al solito abbiamo la necessità di aprirci un bel foodland egg poi andremo a parlare di tutte le news che ragazzi sono davvero tantissimissime c'è tipo cose che vanno via cose nuove che arrivano aggiornamenti vari di cose aggiustate dan 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 dov'è eccolo l'infame ah è giusto mi manca anche lui quindi io sto ancora cercando di ottenere lui ma vabbè allora jump jump e vediamo com'è la situation ho finito anche i soldi che bello guardate ho finito anche i soldi tanto per cambiare quindi aspetto ah vabbè sta facendo aspetto un attimo le missioni no è riuscita subito una missione ho preso anche i miei 20 dollari andiamo subito alla spa alla sorgente termale quindi l'anno corretta con questa era la come si chiamava cosa come si chiamava prima della traduzione primavera calda hot springs quindi si era tipo qualcosa primavera calda vabbè non mi ricordo ah mentre aspettiamo vediamo se è uscito qualche cosa di nuovo qui anche se sono senza soldi e non ho intenzione di spendere robux ops mi sono inca ho fatto qualcosa ok vai sono uscita allora ok abbiamo tutto abbiamo tutto ho tutto ma non ho più l'uovo però vabbè in fin dei conti ne era uno solo quindi ritiro va bene dove ce ne andiamo vabbè aspetto un attimo che arrivano le missioni ok ragazzi in realtà era andata via mi sono uscite un sacco di missioni credo che ci fosse anche qualche fan nel server ma non ho capito e adopt me mi ha cacciato ma ora sono qui con delle missioni e il mio woodland deck sta per schiudersi allora cosa sei una fox sul lampadario una red fox quant'è ho 5 red fox va bene va bene andiamo a vedere le novità di adopt me ok mi avevano chiamato siamo qui e jesse è pronto per dirci qualcosa vai jesse ok ok aggiorneremo i regali facciamo questa cosa un paio di volte l'anno per tenere le cose fresche per voi giocatori abbiamo nuovi passeggini giocattoli palloni propellers gripping hooks and more e più more incluso un nuovo veicolo che andrà a sostituire il dino truck quanti dino truck ho ah ok allora 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 avevo ragione car offroader le tiny convertible stanno per lasciare il gioco quindi ok le avrebbero cambiate queste andranno via e verranno rimpiazzate da altri veicoli che è l'aggiornamento sarà questo giovedì quindi dopo domani ma se ma qui su youtube il mercoledì ci sarà un video aggiornamento un video in cui mostrano cosa ti danno a cambiare e hanno messo il countdown sul sito ok adesso lo andiamo a vedere ah ok quindi il prossimo aggiornamento si troverà in questo countdown e poi ok 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 andiamo subito a vedere perché qui si parla di fanart quindi se vado qui ah fighissimo gift refresh update countdown che ci sarà il 31 marzo alle 7 alle 5 del pomeriggio ovvero per me dato che sto registrando questo video praticamente alle 8 di lunedì sera sai ci mancano ancora 70 ore fighissimo ma adesso spostiamoci su twitter dove abbiamo uh fintissimo Anna che mi ha Anna che mi ha taggato che dicono che hanno dove hanno aggiustato ci informano che hanno aggiustato la questione delle braccia bloxy che di molti voi vi stavate lamentando tipo ok va bene e poi si parla di trade tanto per cambiare ok prossima cosa con un po' di ritardo siamo felici di annunciare che nuove nuove auto sono per la strada the dealership ok quindi il negozio delle macchine verrà appdato verrà aggiornato insieme al gift e poi ci sono persone che dicono facciamo gli scambi e vabbè e poi questo dice questo bambino che scrive fortnite è migliore ok eccola qui gift refresh update arriverà questo giovedì e questo è il nuovo veicolo ma è carinissimo questo arriva al posto questo arriverà al posto della dinocrak ci sta la grande è bellissima mi piace questa mi piace tanto e come al solito vabbè andiamo a parlare semplicemente di fantastici scambi ok quindi per il momento queste sono tutte le news che stanno per arrivare su adopt me ovvero questo giovedì ci sarà il nuovo aggiornamento delle automobili e dei regali voi siete riusciti ad avere tutti i regali ad avere tutte le automobili vi ricordo che quando ci sarà questo aggiornamento queste cose verranno sostituite quindi venerdì ci andremo ad aprire davvero tanti tanti regali non vedo l'ora voi ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate fatemi sapere cosa ne pensate di questo continuo evolversi di adopt me questo continuo aggiornarsi io sono davvero molto molto contenta e se non l'avete ancora fatto vi consiglio di lasciare un bel mi piace se volete altri video del genere e di cliccare su questo pallino e poi su iscriviti se non siete ancora iscritti al canale mentre se volete vedere altri video presenti sul mio canale qui trovate delle fantastiche miniature su cui pigiare io vi saluto e ci vediamo domani alle 15 con un nuovo fantastico video bye bye